Strategia Digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online A cura di Giulio Gaudiano Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti a una nuova puntata di Strategia Digitale La stiamo registrando niente po' di meno che da San Pietroburgo e sono in compagnia di un ospite di tutto rilievo Sto parlando di Salvatore Ricevuto, ciao Salvatore Ciao a tutti Salvatore è online event manager e responsabile del video content per Sam Rush L'organizzatore di questo evento molto bello al quale sto partecipando Il White Night Sam Rush Meetup 2016 Nel quale ci stiamo divertendo tantissimo, eh Salvatore? Ci stiamo mettendo tutte le forze per farvi divertire Comunque non è solo un evento per divertirci Ma per comunque sia trasmettere e scambiarsi opinioni proprio su questo settore È vero, è vero Infatti stiamo facendo un sacco di networking durante questo evento Ed è bello poter incontrare professionisti che arrivano da tutto il mondo effettivamente Perché abbiamo l'Europa ma abbiamo anche Middle East, abbiamo Israele Quindi veramente è un'ottima occasione di incontrare altri professionisti, di confrontarsi Allora Salvatore stiamo parlando di un tool SEO E tu sei responsabile della comunicazione video dei contenuti video a supporto del marketing Di questo tool che serve per fare web marketing ma nello specifico del SEO Come hai affrontato questa cosa? Perché poi stiamo parlando di un software che è attivo su vari mercati Quindi tu lavori nel mercato italiano E qual è la tua strategia video per poter comunicare SEMrush? Beh diciamo che la strategia in particolare è quella di accontentare l'utente Cioè più secondo me chiarisci qualcosa all'inizio Facendo video, facendo materiale che non solo invita a comprare ma anche a utilizzarlo Io mi occupo pure dei webinar, delle hangout che sviluppiamo Ok quindi non è solo uno strumento di promozione Perché il video tu lo vedi più come uno strumento di formazione Infatti diciamo che stiamo andando sul nostro canale YouTube Infatti che vi consiglio di guardare Dove mettiamo tanto materiale anche a livello con i nostri esperti Quindi che diciamo settimanalmente abbiamo la domanda dell'esperto Che è sulle tematiche più frequenti Quindi i nostri esperti vi rispondono Anzi se avete delle domande scriveteci pure E noi saremo felici Diamo l'indirizzo del canale YouTube di SEMrush Italia Basta sul canale YouTube scrivere SEMrush Italia E sarà il primo ovviamente Benissimo Se volete contattarci direttamente potete andare anche sulla nostra pagina Facebook Su Twitter Quindi ci trovate su tutti i canali possibili Noi saremo felici di rispondere alle vostre domande, alle vostre esigenze Ok questo è molto interessante Allora un primo livello di azione mi stai descrivendo Quindi la creazione di uno stream di contenuti Dove degli esperti spiegano come fare delle cose nel mondo del SEO Quindi del web marketing Però questa specifica fetta che è l'ottimizzazione per i motori di ricerca Voi prendete l'esperto e gli fate rispondere a una domanda La domanda nasce proprio dalla contemporaneità della tematica in cui sta nascendo la domanda E' uscita la domanda dell'esperto con il content duplicate Che è qualcosa che in pratica va a spiegarti come utilizzare il tool Non solo ovviamente il nostro tool di SEMrush Ma il nostro esperto Michael Vittori Ha risposto a questa domanda Le domande nascono da tematiche attuali Non li inventiamo ovviamente Ok quindi rintracciate voi stessi una tematica calda Esatto E prendete l'esperto Fate rispondere a questa domanda utilizzando il tool Quindi spiegando come utilizzare Non sempre il tool Bisogna vedere dalla domanda Ok benissimo Questa strategia è interessante Soprattutto perché SEMrush occupandosi di parole chiave E' in grado di individuare bene Quali sono le parole chiave di Codalunga Nel suo settore specifico Quindi vai a creare tutta una serie di contenuti Con dei titoli ottimizzati In base a quelle che sono le query di ricerca più calde Che vanno a costituire una serie di mattoni Una serie di mattoni con i quali si mette su un muro E poi un castello di contenuti Che ci consente di essere presenti Di presidiare determinate ricerche Affermando il vostro marketing Quindi dando delle risposte utili Creando valore E affermando il brand di SEMrush Come risolutore di problemi C'è un livello più basso di questo? Nel senso Avete pensato di utilizzare il video Come strumento di training Per chi acquista il tool O per chi vuole acquistare il tool Quindi con dei video tutorial specifici Sulle funzioni del software? Allora stiamo creando Proprio Si è arrivato proprio nella domanda calda Perché ovviamente Più tool noi creiamo Quindi innoviamo E più ovviamente Di conseguenza facciamo dei video Proprio per spiegare come devono essere utilizzati Perché ovviamente Quando esce un tool Arriva una notifica al cliente Che ha la possibilità di utilizzare questo nuovo tool Ma ovviamente un tutorial fatto in maniera video Quindi è molto più facile da utilizzare Certo È come se fosse un libretto di istruzioni e video Che però invece di dirti Ora mi leggi dalla prima all'ultima pagina Ti consente di trovare di volta in volta La funzionalità che ti serve Quello che mi interessava capire Visto che state proprio affrontando in questo momento Il lavoro di srotolare attraverso video tutorial Le funzionalità del software Voi da che cosa partite? Partite dalla funzionalità del software Per esempio Ricerca parole chiave correlate O partite dall'esigenza Che può essere soddisfatta da quel tool Per esempio Trovare nuove idee per i contenuti Perché per trovare nuove idee per i contenuti Lo strumento di parole chiave Correlate può essere uno strumento utile Volevo capire qual è il vostro approccio Anche qual è la vostra strategia di posizionamento Per questi contenuti Cosa mettete al centro? La funzionalità o l'esigenza? Diciamo che vanno fatti tutti Quindi di tutte le tematiche che hai detto È tutto dei video contenuti Che vanno fatti proprio per questo Quindi toccare tutte le aree che hai appena citato E come vi muovete dal punto di vista editoriale? Avete srotolato un piano completo? O avete individuato un set di query calde Dalle quali partire Per poi andare a intercettare Attraverso domande reali Quelle dei vostri utenti O le domande che vi verranno attraverso i social media Quali sono altre funzionalità Sulle quali realizzare tutorial Diciamo che noi invitiamo sempre I nostri clienti O comunque tutti quelli Che sono nell'indecisione Di comunque contattarci Anche molto facilmente Possono utilizzare Facebook Proprio per un discorso di facilità Di scriverci E così Noi accogliamo le loro richieste Per poi mettere in pratica Anche i clienti stessi Ti aiutano Ponendoti magari delle curiosità A far nascere nella testa Quell'idea di fare qualcosa Perché se molti clienti te lo chiedono Significa che qualcosa per loro Ancora non è chiara È chiaro Quindi partire dall'ascolto È senz'altro un buon vantaggio Arriviamo a un terzo punto Ma prima voglio dire A beneficio di chi ci ascolta Che io sto guardando La vostra strategia Attraverso il framework Che YouTube stesso Dà come framework Per la produzione video Quindi prima mi hai detto Creiamo dei contenuti Con delle domande degli esperti Questa strategia delle 3H Della quale YouTube parla I video hygiene I video hub I video hero In questo framework Va a incastrarsi La strategia degli esperti Sui video hub Quindi video Che producono valore Per le persone che li guardano E che li consentono Di entrare Nell'idea Che Samrush Sia un brand di riferimento Per quel campo Che Samrush Sia un brand autorevole Che posso andare da Samrush A farmi risolvere i problemi Che forse dovrei Scoprire e provare Il tool creato da Samrush Questi altri video Dei quali mi hai parlato Cioè questi video tutorial Sono dei video hygiene Sono dei video Che aiutano a chiarificare L'utilizzo del tool A beneficio degli utenti Quindi molte volte Questi tool digitali Diversamente da altri tipi Di tecnologie che Non si riescano a utilizzare Senza libretto di istruzioni Questi tool digitali A volte sono semplici Da utilizzare Ma per utilizzarli A un livello professionale Ho bisogno di capire Quale pulsante Devo premere O come collegare Tra loro i dati E questo lo farete E lo state facendo Attraverso Dei video tutorial Quello che mi interessava Capire è Avete pensato Anche di utilizzare Dei contenuti video Del materiale video Realizzato durante Questo evento Che avete organizzato A San Pietroburgo Allo scopo Di promuovere Semrush Cioè tutti i video Tutti i materiali Realizzati durante Le sessioni di networking Le sessioni di lavoro In che modo Contribuiranno Se hai pensato Di farli contribuire Alla vostra strategia video Bah Il discorso dell'evento Proprio È una cosa Che Noi vediamo Proprio realmente Che la cosa È molto interessante I nostri esperti E tutto il mondo Sono proprio entusiasti Dell'idea Di poter scambiare Le idee Con gli altri Noi ovviamente Stiamo immortalando Utilizziamo questo termine Tutti questi Dettagli Della loro Diciamo Attenzione Verso Quello che noi proponiamo Verso Quello che Hanno potuto vedere Sul facebook live Abbiamo fatto il live Mentre i nostri esperti Proprio analizzavano I website Che loro Ci scrivevano Quindi sui commenti E hanno potuto Quindi apprezzare Quello che i nostri esperti Consigliavano Proprio in real time Quindi Alcuni Degli esperti Hanno proprio Utilizzato il nostro tool Quindi Il nostro software Facendo il login Quindi verificando Verificando come È possibile Utilizzarlo Per andare A analizzare Il proprio website E magari Paragonarlo A un altro Quindi capire Perché il concorrente Sta avendo più successo Di lui O perché Lui non si classifica Tra le 20 pagine Su google Quindi ci sono Molti dettagli Che tu puoi Analizzare Quindi questo Facebook live Ha potuto Dare la possibilità A molti Anche come Un video tutorial Quindi capire Come utilizzarlo Beh Questo mi sembra Molto interessante Avete fatto una cosa Molto smart Effettivamente Nel senso che Avete lavorato Su tre livelli Diversi Prendo degli esperti Che Sì Probabilmente Utilizzano il mio tool Forse lo utilizzano Il cento per cento Delle volte Forse lo utilizzano Il cinquanta per cento Delle volte Gli do Un lavoro da fare Li metto all'opera Quindi prima Creo un evento Reale E ho un primo Layer Un primo Fronte sul quale Lavoro In questo evento Reale Che genera Awareness In quelli che possono Essere dei miei Brand ambassador Delle persone Che comunque Sanno utilizzare Il mio tool Sono dei professionisti Ne parlano ad altri In questo evento Reale Li mettete All'opera E Generate valore Attraverso Il feedback Per esempio Come avete fatto Un open clinic Cioè il feedback Dato live Dal vivo Dagli esperti Utilizzando a volte Il vostro tool A persone che vogliono Il loro sito web Analizzato E qui abbiamo Un altro layer Quindi la creazione Di valore Attraverso il video Distribuita attraverso Il video Che però È un video live Quindi è capace Di generare Il live L'avete fatto su facebook È capace Di generare Engagement Quindi c'è Awareness Come primo livello Presso i professionisti Del settore Un secondo livello È l'engagement Social Engagement Dei altri professionisti Ma soprattutto Dei clienti finali Persone Che hanno Un sito web Che vogliono E che vogliono Il loro sito web Analizzato Da un esperto Digital E poi mi sta Dicendo C'è un altro Layer Ulteriore Che è il content Marketing Perché poi Se ognuno Di questi contenuti Ieri abbiamo Analizzato Ragazzi Ben Cento siti Cento siti In relativamente poco Tempo Perché erano Cinque esperti Che lavoravano Contemporaneamente Per due Tre minuti Su ogni sito web Quindi veramente È stata un'opera Titanica Bene Se tutto questo materiale Viene clippato Ripubblicato Titolato In maniera opportuna E distribuito Attraverso i canali video Diventa Iniziativa Di content Marketing Quindi raggiungo Con la stessa Utilizzando lo stesso Tempo Con la stessa Azione Con la stessa Strategia Vado a raggiungere Tre obiettivi diversi Awareness Una business Awareness L'engagement Social E il content Marketing Quindi è veramente Stata una strategia Molto smart E in particolare Volevo Diciamo Approfittare Della tua presenza Qui Per Spiegare un pochino Come strutturare Gli account Nel vostro caso Un account youtube Quando vai a lavorare Su vari Mercati Linguistici Cioè Voi lavorate Sul mercato Italiano Sul mercato Anglofono Sul mercato Germanofono Tedesco Su quello spagnolo E anche sul mercato Globale Allora Per lavorare Su questi mercati Avete creato Un unico account youtube Oppure avete creato Un account Per ogni nazione O mercato linguistico Dai Questo non è un segreto Perché alla fine Basta scrivere su youtube Semrush Potrai esplorare Che esistono i canali Italia Esiste il canale Semrush Direttamente Esiste il canale spagnolo Il canale francese Quindi questo diciamo Non stiamo svelando Niente di segreto Perché è tutto online Ma ovviamente Questo ti aiuta A prendere E aiutare In diversi canali Tutti Ognuno con la propria lingua Quindi i clienti Per qualsiasi lingua Che loro utilizzano Quindi per lingua Vi siete mossi Ma avete anche creato Un canale Diciamo Centrale Per la promozione Del brand O sempre ragionate Sulla lingua Cioè Semrush In inglese Semrush Semrush Side Semrush Poiché Prende Tutti Queste aree E' logico Che utilizza Diversi canali Con diversi contenuti Che ognuno Ognunomi Tre Perchè Quindi Diciamo Parlavi Dell'interviste Agli esperti Per dire Ci saranno Interviste Agli esperti In inglese Sul canale In inglese Interviste Ad altri esperti italiani in italiano sul mercato italiano, giusto? Esattamente. Questo credo sia importante da sottolineare, perché per quanto a te che sei un esperto di questo, che il tuo lavoro può sembrare scontato, molti brand e società creano il canale YouTube e ci appoggiano i video. Poi se i video sono in inglese, in giapponese, in italiano, dici vabbè è il nostro canale YouTube, beh mica tanto, perché YouTube non è un cassetto nel quale mettere i video e chi si è visto si è visto. YouTube è un canale di comunicazione e di distribuzione, quindi se mi rivolgo a diverse audience, se queste audience hanno lingue diverse, problemi diversi, anche con problemi uguali ma in lingue diverse, è importante avere il controllo di vari account. Benissimo, Salvatore, guarda, io ti ringrazio tantissimo di questa chiacchiera. È stato un piacere, dai. Dai, è stato un piacere anche ritrovare un ragazzo siciliano, tu sei originario di Catania. Sono di Catania, sono di Catania, esatto. Fantastico. Ragazzi, siamo in tutto il mondo, questo è perché gli italiani fanno un ottimo lavoro, vedi anche Salvatore qui a Semrush sta dando un grande contributo qui in Russia. Grazie al mio background di software engineer, quindi posso ovviamente dare tutta la mia esperienza anche in questo settore. Ottimo, ottimo, benissimo. Io ringrazio la nostra founder principale che è Roberta Andreoni, noi abbiamo, sai Salvatore, un programma di crowdfunding attraverso patreon.com slash Giulio Gaudiano, c'è un'iniziativa di crowdfunding dove il nostro pubblico può partecipare al finanziamento di strategia digitale. Ce ne sono tanti che contribuiscono, ognuno secondo le sue possibilità e noi ringraziamo in particolare quelli che sono i grandi finanziatori, quelli che realmente danno un apporto fondamentale, senza dei quali non potremmo realizzare questo programma. Nomino Roberto Andreoni che è proprio la prima finanziatrice e poi voglio ringraziare Sara Veltri, coautrice del programma, il nostro fonico Costanza Mineo e naturalmente radiospeaker.it curatore del nostro sound design. Grazie mille e alla prossima. Dai, li ringrazio pure io. Grazie a tutti. Ciao. Strategia digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano